Ieri si parlava di zona franca. Zona franca, zona franca, zona franca. Cosa pensa della zona franca? La zona franca è come aggiungere un anello alla catena che vi tiene in schiavitù, dandovi la possibilità di allungarvi di 10 cm in più rispetto alla catena attuale. Niente di più, niente di meno. A me fa sorridere perché non so quanto ci siano o ci fanno, nel senso che queste sono distrazioni di massa. Distrazioni per una massa che vuole essere distratta, chiaramente. Siamo in un paese che è stato messo su con il sangue e il tradimento. Siamo in un paese dove è gestito tutto dalla massoneria, da sempre. Siamo in un paese martoriato da basi militari, da industrie petrolchimiche, da inquinamento di vario genere, martoriato da problemi di natura dolosa, quali incendi e quant'altro. Siamo un paese con una marea di problemi. Soprattutto siamo un paese senza ossigeno. Quando dico ossigeno mi riferisco naturalmente al denaro gestito da banche private straniere, di un denaro a debito. Siamo in un paese corrotto fino all'osso dove la magistratura, che rappresenta l'inquisizione cattolica e apostolica romana, fa il bello e il cattivo tempo permettendosi anche di non seguire le stesse sue leggi. Siamo in un paese dove scompagnano bambini quasi quotidianamente, si può dire, e molti di loro non si sa che fine fanno, meglio si sa, ma viene occultato e i media tacciono da sempre. Dove le forze dell'ordine sono complici perché anche esse tacciono e nascondono i dati ufficiali dai propri siti internet. Siamo in un paese dove l'elite è satanista, attua a messe nere con uccisioni di bambini, con rituali dove si beve e si mangia carne umana. Siamo in un paese dove insieme ai servizi segreti statunitensi si attuano altre tipologie di ritti, rituali di controllo delle masse, di controllo mentale sui singoli. E chi più ne ha più ne metta. Vogliamo parlare dell'inquinamento atmosferico causato dai cieli, dai nostri cieli, dove l'aeronautica militare tace, occulta. Però c'è qualcuno che si preoccupa della zona franca, appunto di quell'anello della catena in più per permettervi da schiavi di potervi muovere 10 cm in più in base al raggio d'azione della catena stessa. Veramente assurdo, ridicolo. Siamo un popolo ridicolo. Ma voglio fare un altro paragone. E' come pensare di impegnarsi a togliere un granello di sabbia dal proprio occhio quando sulla propria testa pesa un meteorite. Ecco, questo è il paragone che mi sembra più opportuno, più consono da portare. Sì, proprio si tenta di togliere il granello di sabbia dall'occhio mentre sulla propria testa pesa un macigno, un meteorite. Ecco, buona riflessione quotidiana.